no no certo se e i pp e secca sul test e gioco e gioco aah si sono aggrappati tantissimo guarda questo cosa ti faccio fare non va a che metti guarda guarda Rosso ah ahahah ci vuole solo presa va a mi fai così e vai a facci fare l'intorno mi saltellano mi è accattata si è attaccato ha scappato e son stanche Oh